wow quest'albero è grandissimo infatti pensa tutta l'acqua che deve trasportare dalle radici alle foglie perché cosa intendi attraverso la traspirazione l'acqua che evapora a livello delle foglie gli alberi perdono centinaia di litri di acqua ogni giorno quindi per compensare le piante sono obbligate ad estrarne la stessa quantità dal suolo questo per evitare di soffrire la disidratazione veramente ma poi cosa succede l'acqua viene trasportata nel tronco esatto all'interno del legno ci sono milioni di piccoli condotti insieme formano una rete molto complessa estremamente efficiente ed affidabile nel rifornire di acqua l'intera pianta ma come viene pompata l'acqua all'interno della pianta questa è la cosa notevole le piante non devono pompare nulla vanno invece a sfruttare la tensione generata dalla traspirazione si tratta di una tecnica molto ingegnosa con la quale le piante riescono a trasportare l'acqua fino alla chioma senza alcuno sforzo tuttavia questa tecnica va a limitare l'altezza massima che un albero può raggiungere infatti nel momento in cui la tensione diventa troppo alta la colonna d'acqua si rompe causando nembolia ah ma quindi è questa la ragione per cui piante come per esempio questa sequoia non riescono a crescere per più di 120 metri io